Oggi una risposta globale, collettiva ed efficace non sta fallendo soltanto la nostra generazione, sta fallendo un intero sistema di sviluppo. Pagheranno i nostri nipoti, forse addirittura i nostri figli. Oggi è tempo di agire e dobbiamo prendere atto di una cosa molto semplice. Fino a qualche anno fa erano i biologi, i matematici, i demografi che si occupavano di rischi climatici. Oggi sono innanzitutto gli economisti che ci dicono che è il momento di fare la nostra parte. Si tratta dunque di una questione economica e si tratta di una questione etica, morale. Vi porto la voce di un Paese, l'Italia, che ha le carte in regola. Siamo all'avanguardia in tanti settori, dalla green economy alla geotermia. Abbiamo il 43% di energie rinnovabili nella produzione elettrica e siamo i primi al mondo per il contributo del fotovoltaico nel mix elettrico nazionale, circa l'8%. Con la nuova legge di stabilità, con la nuova legge di bilancio, abbiamo messo 4 miliardi di euro sul climate change, da qui al 2020. Il ruolo dell'Italia appoggia anche su due straordinari player, due straordinari champions come Eni ed Enel, che hanno saputo cambiare pelle e diventare leader del processo di trasformazione e di rinnovamento. In particolar modo Eni in Africa ed Enel in Sud America. Ma credo che questo non sia sufficiente. Occorre innanzitutto uno sguardo politico. E per noi come Italia è prioritario evidenziare qui l'importanza delle piccole isole, i piccoli stati insulari e anche della regione balcanica sulla quale stiamo lavorando. È una questione finanziaria, economica, noi facciamo la nostra parte, ma è innanzitutto una questione politica. E allora, noi cari amiche e cari amici abbiamo una grande responsabilità. Noi siamo chiamati a disegnare il futuro del mondo tutti insieme. È un grande privilegio allestire la scena in cui i nostri figli e le nostre figlie vivranno la loro vita. Attenzione però, non c'è simbolo ed esempio più grande di quello della natura. Un uomo che viveva nell'antica Roma, il grande filosofo Seneca diceva che tutta l'arte è solo l'imitazione della natura. Come politici siamo chiamati a realizzare un capolavoro, a realizzare la scena dove i nostri figli vivranno. Ma non potremo che imitare la cosa più bella che c'è, la natura, che oggi va innanzitutto difesa e difesa da noi stessi. Grazie, se tutti insieme riusciremo a trasformare una difficoltà, una sfida nella più bella delle opportunità. Grazie a tutti.